Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo. Nel corso di domenica, importanti cambiamenti scenari meteo sul Mediterraneo. Guardate di fatti come una profonda zona di bassa pressione atlantica dalla Francia e dalla Spagna si getterà nel cuore del vecchio continente del Mediterraneo e darà vita appunto a una fase instabile che nei prossimi giorni interesserà soprattutto centro-sud ma entro metà settimana parte di queste precipitazioni raggiungeranno anche al nord. Intanto inizialmente sarà fuori ai margini di questo peggioramento. Dicevo domenica peggiora sulla Sardegna regioni centrali con piogge in arrivo entro la serata. Andiamo a vedere quello che succederà con l'aiuto della prossima grafica. Eccolo qui il fronte perturbato che si avvicina dapprima la Sardegna poi anche le regioni centrali ma anche la parte tirrenica mentre il nord sarà una giornata né compresso buona anche all'estremo sud. Andiamo a vedere la prossima grafica più che altro ci fa vedere come durante la giornata le piogge saranno in arrivo sulle centrali tirreniche poi entro fine giornata anche sul medio adriatico. Al nord giornata discreta ma vi segnalo le temperature in calo. Arrivare a più fredda da nord-est non andiamo oltre i 5-7 gradi nel pomeriggio. Dettagli come sempre sull'app di Trevi Meteo.